Capitolo cinquantesimo. Preliminare spetta assai. Che è il pilastro dei Bhakta. Che è il nostro Sadhguru. Che espone il significato della gita e che ci dà tutti i poteri. Oh sai, guardaci favorevolmente e benedici tutti noi. Gli alberi di Sandalo crescono sulle montagne della Malesia uno e tengono lontano il caldo. Le nuvole versano la loro acqua piovana e quindi rinfrescano e rinfrescano tutte le persone. I fiori sbocciano in primavera e ci permettono di adorare Dio. Quindi, le storie di Sai Baba vengono alla luce per dare conforto e conforto ai lettori. Sia quelli che raccontano che quelli che ascoltano le storie di Baba. Sono benedetti e santi. E un fatto ben stabilito che. Anche se proviamo centinaia di mezzi o sadhana. Non raggiungiamo l'obiettivo spirituale della vita. A meno che un Sadhguru non ci benedica con la sua grazia. Ascolta la seguente storia a illustrazione di questa affermazione. Kakasaeb Dixit. 1864-1926. Il signor Arisitara Malias Kakasaeb Dixit nacque nel 1864 a Vadnagara Nagar in una famiglia. Bramina. A Candua. Provincia centrale. La sua istruzione primaria è stata svolta a Candua. in Gangat e l'istruzione secondaria a Nagpur. È venuto a Mumbai per l'istruzione superiore e ha studiato prima al Wilson College e poi all'Elphinstone College. Dopo la laurea nel 1883. Superò il suo LL. B. e gli esami di avvocato. E poi prestò servizio nella ditta del governo. Avvocati. Signori Little Eko. E poi. Dopo un po' di tempo. Fondò uno studio legale tutto suo. Prima del 1909. Il nome di Sai Baba non era familiare a Kakasaeb. Ma da allora divenne presto un suo grande devoto. Mentre si trovava a Lonavla. Gli capitò di vedere il suo vecchio amico. Il signor Nanasaeb Shandorkar. Entrambi hanno trascorso del tempo parlando di molte cose. Kakasaeb gli raccontò come. Mentre stava salendo su un treno a Londra. Ebbe un incidente in cui il suo piede scivolò e rimase ferito. Centinaia di rimedi non gli diedero alcun sollievo. Nanasaeb allora gli disse che se voleva liberarsi del dolore e della zoppia della gamba. Avrebbe dovuto andare dal suo Sadhguru Sai Baba. Gli diede anche tutti i particolari di Sai Baba e gli menzionò il detto di Sai Baba. Attiro a me il mio uomo da molto lontano o addirittura attraverso i sette mari. Come un passero con una corda attaccata ai suoi piedi. Gli fece anche capire chiaramente che. Se non fosse stato un uomo di Baba. Non sarebbe stato attratto da lui e non gli sarebbe stato dato il Darshan. Kakasaeb fu felice di sentire tutto questo e disse a Nanasaeb che sarebbe andato da Baba. Lo avrebbe visto e lo avrebbe pregato di curare non tanto la sua gamba zoppa. Ma di riportare in vita la sua mente zoppa e volubile e di dargli la beatitudine eterna. Qualche tempo dopo. Kakasaeb andò ad Ahmednagar e rimase con Sirdar Kakasaeb Mirikar per assicurarsi i voti per un seggio nel consiglio legislativo di Mumbai. Anche il signor Balasaeb Mirikar. Figlio di Kakasaeb Mirikar. Che era un mamalatdar di Kopergaon. Venne in quel periodo ad Ahmednagar in occasione di una mostra di cavalli lì. Dopo che le questioni elettorali furono concluse. Kakasaeb Dixit volle andare a Sirdi ed entrambi i Mirikar. Padre e figlio. Stavano anche pensando a una persona adatta e adeguata. Come guida. Con cui mandarlo lì. Lì Sai Baba stava organizzando le cose per il suo ricevimento. Shama ha ricevuto un telegramma da suo suocero ad Ahmednagar in cui affermava che sua moglie era. Gravemente malata e che sarebbe dovuto venire a trovarla con sua moglie. Shama con il permesso di Baba andò lì. Vide sua suocera e la trovò che stava migliorando sempre di. Più. Nanasaeb Panse e Appasaeb Gadre videro Shama mentre si recavano alla mostra e gli dissero di. Andare a casa di Mirikar. Vedere lì Kakasaeb Dixit e portarlo a Sirdi insieme a lui. Anche Kakasaeb Dixit e i Mirikar furono informati dell'arrivo di Shama. In serata. Shama andò da Mirikar. Che lo presentò a Kakasaeb. Stabilirono che Shama partisse per Kopergaon con Kakasaeb con il treno notturno delle 22. Dopo che la cosa fu risolta. Accadde una cosa curiosa. Balasaeb Mirikar gettò da parte il velo o la copertura sul grande ritratto di Baba e mostrò lo. Stesso a Kakasaeb. Fu sorpreso nel vedere che lui. Che avrebbe incontrato a Shirdi. Era già lì sotto forma di suo ritratto per salutarlo. In questo frangente. Ne fu molto commosso e si prostrò davanti al ritratto. Questo ritratto apparteneva a Mega. Il vetro sopra era rotto ed è stato inviato a Mirikars per la riparazione. Le riparazioni necessarie erano già state effettuate e si è deciso di restituire il ritratto con Kakasaeb e Shama. Prima delle 10 andarono alla stazione e prenotarono il biglietto. Ma quando arrivò il treno. Trovarono che la seconda classe era sovraffollata. E che non c'era posto per loro. Fortunatamente. Si scoprisce la guardia del treno era un conoscente di Kakasaeb e li fece salire in prima classe. Così viaggiarono comodamente e scesero a Kopergaon. La loro gioia non conobbe limiti. Quando videro l'Inanasaeb Shandorkar. Anche lui diretto a Shirdi. Kakasaeb e Nanasaeb si abbracciarono e poi. Dopo aver fatto il bagno nel sacro fiume Godavari. Partirono per Shirdi. Dopo essere arrivato lì aver ricevuto il Darshan di Baba. La mente di Kakasaeb era sciolta. I suoi occhi erano pieni di lacrime ed era traboccante di gioia. Baba gli disse che anche lui lo stava aspettando e che aveva mandato Shama avanti a riceverlo. Kakasaeb trascorse poi molti anni felici in compagnia di Baba. Costruì un Wada a Shirdi. Che fece diventare. Più o meno. La sua casa permanente. Le esperienze che ha ricevuto da Baba sono così molteplici che non è possibile raccontarle tutte qui. Si consiglia ai lettori di leggere lo speciale. Kakasaeb Dixit. N. Della rivista. Shurai Sai Lila. Vol 12. N. 6 a 9. Chiudiamo questo resoconto con la menzione di un solo fatto. Baba lo aveva confortato dicendogli che alla fine, lo porterà in un pullman aereo. Viman. Virgolette. Cioè gli assicurerà una morte felice. Questo si è rivelato vero. Il 5 luglio 1926 stava viaggiando sul treno con Emapan e parlava di Sai Baba. Sembrava profondamente assorbito da Sai Baba. All'improvviso gettò il collo sulla spalla di Emapan e spirò senza traccia di dolore e disagio. Shurai Tembe Swami. Veniamo alla storia successiva. Che mostra come i santi si amano con affetto fraterno. Una volta Shurai Vasudevanend Sarasvati. Conosciuto come Shurai Tembe Swami. Si accampò a Rajamaendri. Andra country. Sulle rive del Godavari. Era devoto. Ortodosso. Deniani e Yogi Bhakta del Dattatreya. 1. Il signor Pundalikrao. Difensore di Nandid. Stato di Nizam. E' andato a trovarlo con alcuni amici. Mentre stavano parlando con lui. Furono menzionati casualmente i nomi di Shirdi e Sai Baba. Sentendo il nome di Baba. Lo Swami unì le mani con reverenza e. Prendendo una noce di cocco. La diede a Pundalikrao. Egli disse. Offri questa a mio fratello Sai. Con il mio pranam e chiedigli di non dimenticarmi. Ma di amarmi sempre. Ha anche aggiunto che gli Swami generalmente non si inchinano agli altri. Ma in questo caso si è dovuta fare un'eccezione. Signor Pundalikrao. Ha consentì a portare la noce di cocco e il suo messaggio a Baba. Lo Swami aveva ragione nel chiamare Baba un fratello. Poiché mentre manteneva un agnotra. Fuoco sacro. Giorno e notte. Nel suo modo ortodosso. Anche Baba manteneva il suo agnotra. Cioè duni sempre acceso nel masjid. Dopo un mese Pundalikrao e altri partirono per Shirdi con il noce di cocco. E raggiunsero Mamad. E poiché avevano sete si recarono a un ruscello per bere acqua. Poiché l'acquanon dovrebbe essere bevuta a stomaco vuoto. Portarono fuori qualcosa da bere. Ad esempio il kivda. Riso schiacciato mescolato con spezie. Il kivda aveva un sapore molto pungente e per ammorbidirlo. Come qualcuno suggerì. Spezzò la noce di cocco e vi mescolò i suoi raschiamenti. In questo modo hanno reso il kivda più gustoso e appetibile. Purtroppo la noce di cocco si rivelò essere la stessa affidata a Pundalikrao. Mentre si avvicinavano a Shirdi. Pundalikrao si ricordò del tesoro. Cioè la noce di cocco. E fu molto dispiaciuto nell'apprendere che era rotta e consumata. Arrivò a Shirdi e vide Baba. Baba aveva già ricevuto un messaggio wireless riguardante la noce di cocco da Tembe Swami. E lui stesso chiese prima a Pundalikrao di consegnargli l'oggetto inviato da suo fratello. Tenne stretti i piedi di Baba. Confessò la sua colpa e negligenza. Si pentì e chiese perdono a Baba. Si offrì di dare un altro frutto in sostituzione. Ma Baba rifiutò di accettarlo. Dicendo che il valore di quella noce di cocco era molto più di quello di una noce ordinaria. E che non poteva essere sostituita con un'altra. Baba aggiunse anche. Ora. Non devi preoccuparti più della questione. È stato a causa del mio desiderio che la noce di cocco ti fosse affidata. E alla fine si ruppe lungo la strada. Perché dovresti assumerti la responsabilità delle azioni. Su di te. Non nutrire il senso di azione nel fare il bene. Così come nelle cattive azioni. Sii completamente privo di orgoglio e di ego in tutte le cose e così il tuo progresso spirituale. Sarà rapido. Che bellissima istruzione spirituale ha dato Baba. Balaram Durendar. 1878-1925. Il signor Balaram Durendar. Apparteneva alla comunità Pater Prabhu di Santa Cruz. Mumbai. Era un avvocato dell'Alta Corte di Mumbai e per qualche tempo preside della Government Law School. Mumbai. L'intera famiglia Durendar era pia e religiosa. Sig. Balaram servì la sua comunità e ne scrisse e pubblicò un resoconto. Rivolse poi la sua attenzione alle questioni spirituali e religiose. Studiò attentamente la gita. Il suo commento de Nyaneshwari e altre opere filosofiche e metafisiche. Era un devoto di Vitoba di Pandarpur. Entrò in contatto con Sai Baba nel 1912. Sei mesi prima. I suoi fratelli Babulji e Vamanrao vennero a Shirdi e presero il Darshan di Baba. Tornarono a casa e menzionarono il loro dolce esperienze a Balaram e ad altri membri. Poi decisero tutti di vedere Sai Baba. Prima che arrivassero a Shirdi. Baba dichiarò apertamente che. Oggi verranno molti della mia gente di Darbar. I fratelli Durendar rimasero stupiti nel sentire questa osservazione di Baba da parte di altri. Poiché non avevano dato alcuna precedente notizia del loro viaggio. Tutte le altre persone si prostrarono davanti a Baba e si sedettero a parlare con lui. Baba disse loro. Questi sono i miei Darbar. A cui mi riferivo prima. E disse ai fratelli Durendar. Siamo stati insieme nelle ultime 60 generazioni. Tutti i fratelli erano gentili e modesti. Stavano con le mani giunte. Guardando i piedi di Baba. Tutte le emozioni satviche. Come le lacrime. Il soffocamento. Eccetera. Li commossero ed erano tutti felici. Poi sono andati al loro alloggio. Hanno mangiato e dopo essersi riposati un po' sono tornati al masjid. Balaram si sedette vicino a Baba. Massaggiandogli le gambe. Baba. Che stava fumando il Killim. Lo avanzò verso di lui e gli fece cenno di fumarlo. Balaram non era abituato a fumare. Tuttavia accettò la pipa. La fumò con grande difficoltà e la restitui con reverenza. Questo fu il momento più propizio per Balaram. Soffriva di asma da sei anni. Questo fumo lo guarì completamente dalla malattia. Che non lo disturbò mai più. Circa sei anni dopo. In un giorno particolare. Ebbe di nuovo un attacco di asma. Questo fu precisamente il momento in cui Baba prese il suo Masamadi. Il giorno di questa visita era un giovedì quella notte i fratelli Durendar ebbero la fortuna di assistere alla processione Ciavadi. Durante la funzione della Ratinel Ciavadi. Balaram vide lo splendore di Pandurang sul volto di Baba e la mattina dopo. Al momento del Kaka da Rati. Lo stesso fenomeno o lo stesso splendore dell'amata divinità Pandurang era di nuovo visibile sul volto di Baba. Il signor Balaram Durendar scrisse in Marathi. La vita del santo Marashtra Tukaram. Ma non sopravvisse abbastanza per vederne la pubblicazione. Fu pubblicato più tardi dai suoi fratelli nel 1928. In una breve nota sulla vita di Balaram data all'inizio di quel libro. Il suddetto resoconto della visita di Balaram è stato pienamente corroborato. Vide pagina 6 del libro. Inchinatevi a Shorai Sai. Pace a tutti.